Fine della corsa in tutti i sensi per il ladro seriale che negli ultimi giorni ha messo a punto a Isernia una serie di furti all'interno di alcune attività commerciali. Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, è stato acciuffato dopo l'ennesimo colpo perpetrato e danni di un noto ristorante in zona Le Piane da un gruppo di coraggiosi atleti della società sportiva Freerunners Isernia, soliti allenarsi proprio lungo il tragitto che confina con l'attività commerciale. I runners, intorno alle 7 del mattino, hanno visto l'uomo incappucciato scavalcare la recinzione del ristorante. Immediatamente, senza paura, si sono messi all'inseguimento del ladro che, ovviamente, non ha avuto scampo data la prestanza atletica del gruppo di sportivi. Una volta bloccato e messo in sicurezza, i podisti hanno immediatamente allertato la polizia che ha portato via l'uomo per l'identificazione. Il giovane di 29 anni aveva con sé anche della rifurtiva frutto di altri colpi messi a segno. Potrebbe trattarsi proprio della stessa persona, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della pizzeria prima vittima dei furti. In queste ore sarebbe stato individuato e denunciato dai carabinieri anche un altro uomo. Si tratterebbe di un 34enne vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, colpevole questa volta di aver messo a segno un furto in un ristorante del centro storico. Il proprietario, dopo l'orario di chiusura, era stato avvisato che il vetro della porta d'ingresso era in frantumi. Le attività di indagine si sono concentrate su soggetti già noti alle forze dell'ordine.